buongiorno signori si ritorna in pesca che spettacolo come andrà breve storia triste amate rispettate e trattate bene le vostre canne perché se siete come me non strafottenti però poco delicati succede questo signori buongiorno oggi un mare spettacolare vediamo cosa riusciamo a combinare in questa sessione di pesca a a a Grazie a tutti. 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 tu sei stato strafottente tu l'hai forzata troppo la canna quella era una canna che ho forzato anche di più e non ha mai dato problemi purtroppo chi segue il canale da tempo lo sa chi è venuto a pesca con me lo sa sa come sono fatto che ho purtroppo la mia pecca è la leggerezza nel trattare l'attrezzatura e quindi questa leggerezza ha portato a diversi graffi tacche più o meno profonde nella canna che in combo con quella forzata che ho fatto l'ha fatta scoppiare in mano leggerezza che comunque cercherò di evitare la prossima volta anche perché in questo momento già ho in mano la nuova cannetta e quindi dovrò cercare di prestare più attenzione vedremo di inaugurarla al meglio quindi quanto prima ci sarà il test in mare della nuova ilicium e dell'artificiale che ho preso alla caverlan il gercuta vedremo di inaugurarli entrambi al meglio e ci vediamo noi al prossimo video un abbraccio ragazzi alla prossima ciao ciao ciao